Una discarica illegale di rifiuti nelle vicinanze del porto di Anversa ha segnato l'inizio di un'indagine internazionale che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale di matrice albanese coinvolta nel traffico di droga su larga scale e nelle rapine a mano armata. 17 sospettati sono stati arrestati, questo il risultato di un'operazione coordinata il 4 giugno scorso tra Belgio, Paesi Bassi, Austria, Germania, Svizzera e Italia dove sono stati fermati i capi dell'organizzazione, secondo gli inquirenti, di cui uno ad Arezzo. Tra i rifiuti del porto di Anversa erano state infatti scoperte confezioni vuote di cocaina e utensili utilizzati per tagliare la droga. A catena sono state poi trovate diverse discariche illegali contenenti dozzine di contenitori vuoti di droga. Le indagini coordinate dall'Europol hanno rivelato che dietro a queste discariche c'era un'organizzazione criminale albanese che si occupava dell'importazione e dell'esportazione di cocaina ed eroina in vari paesi europei utilizzando veicoli dotati di doppi fondi. L'organizzazione collaborava anche con un altro gruppo criminale albanese per rapinare i trasporti di droga di clan rivali a disposizione un impressionante arsenale di armi da fuoco. Sono stati sequestrati in tutto 100 kg di cocaina, 6 armi da fuoco, ingenti somme di denaro contante, circa 265 mila euro, sostanze per il taglio della droga, uniformi della polizia, giubbotti antiproiettile, immobili ai veicoli con doppi fondi, due laboratori per la raffinazione, lavorazione e estrazione della cocaina ed infine 20 criptotelefoni. Ad Arezzo i carabinieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza d'indagine europea emessa dal tribunale di Anversa, rintracciando ed arrestando un 33enne albanese accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. All'uomo è stato notificato anche un ordine di esecuzione per la carcerazione in quanto dovrà scontare una pena di due anni, dieci mesi e sei giorni di reclusione sempre per reati in materia di stupefacenti commessi a Civitella in Valdichiana nel 2016. L'uomo si trova nel carcere a Retino di San Benedetto.